Ti stai ancora ciucciando il dito? Allora Simone, stiamo cercando una strategia, un modo perché tu non ciucci più il dito perché altrimenti questi dentini, fammeli vedere, in mezzo ti crescono tutti storti Allora, che cosa possiamo fare? Allora, l'ultima secondazione Sai che cos'è? La secondazione? No, non so che cos'è, spiegamelo Prendere un guanto o se dopo il bambino se le toglie ci metti un po' di scoccia intorno e un pezzo di guanto sopra e ci metti un po' di colla dentro al dito ci metti un pezzo di guanto così almeno non ti puoi più ciucciare il dito Ho capito E non c'è altro sistema, eh? No Ma secondo te da solo non ce la fai? Eh sì, questa cosa sì Fammi vedere un po' il guanto E vai a letto così? Sì Mamma mia, vabbè Buonanotte E vuole notte più Buonanotte Buonanotte Buonanotte